Volevo informarvi attraverso questo breve video che a causa dell'algoritmo anti-spam di YouTube qualcuno di voi potrebbe non aver ricevuto più alcuna risposta ai commenti lasciati sotto i miei video Ciò accade poiché il contenuto di alcuni vostri commenti, soprattutto quelli contenenti il codice che volete farmi visionare vengono automaticamente etichettati come ambigui e buttati direttamente in spam Ovviamente il buon vecchio YouTube se ne guarda di molto bene dall'avvertirmi di questa sua iniziativa lasciando così questi commenti nel dimenticatoio A breve quindi sbloccherò i commenti contenuti nello spam e per correttezza risponderò a tutti Perdonatemi il disservizio e a risentirci Grazie